Cari amici della comunità di Sant'Egidio e con piena gratitudine che vorrei rivolgere un saluto grato per la protezione di Sant'Egidio in cui noi ricordiamo i 1300 anni dalla sua morte sono passati 1300 anni tanti ma lo spirito ancora vive oggi in particolar modo nella comunità di Sant'Egidio come vescovo dell'Arcidiocesi di Jakarta desidero ringraziare per la presenza il servizio della comunità di Sant'Egidio nell'Arcidiocesi di Jakarta sono persuaso nel dire che la presenza il servizio della comunità è diventata la voce del cuore per la chiesa e per la società e io spero carissimi amici e membri della comunità di Sant'Egidio che vivere grati di questo ruolo di essere voce del cuore la voce della chiesa e della società possa far crescere maggiormente una sensibilità facendo crescere la creatività nella presenza e nel servizio mi auguro che con questo non siano solo i poveri ad avere amici della comunità di Sant'Egidio ma la stessa comunità di Sant'Egidio con la presenza e il servizio cresce nel rispondere a quella vocazione che è rivolta a tutti noi e tutti sappiamo che seguire Cristo è rispondere a quella vocazione per crescere verso la purezza dell'amore purezza della santità e pienezza di una vita cristiana possa il Signore grande nell'amore continuare ad accompagnarci proteggere e indicare le strade creative in particolar modo in un tempo difficile quando ci ritroviamo in un tempo di ansietà ma proprio in questa situazione i nostri familiari i nostri amici i nostri compagni hanno più che mai bisogno dell'amicizia dell'attenzione della presenza del servizio della comunità di Sant'Egidio a nome mio e a nome di tutti i bambini che hanno beneficiato il servizio della comunità di Sant'Egidio desidero con piena gratitudine rivolgere i miei ringraziamenti loro a volte non sempre hanno occasione di poter ringraziare ed è per questo che io a nome loro io vorrei far pervenire il loro grazie per la presenza in servizio di tutti gli amici i compagni di tutti i poveri il Signore vi benedica abbiamo un altro il